Signore e signori buongiorno, mi dispiace veramente di non essere lì con voi oggi, ci avrei tenuto moltissimo, purtroppo non è stato possibile riuscire a incastrare la mia presenza lì da voi. Ci tenevo moltissimo perché noi in Ambrosetti da anni ci occupiamo di sviluppo territoriale, da anni ci occupiamo di promozione dei territori in Italia e all'estero e sappiamo quanto sia importante e crediamo che probabilmente sia una delle grandi sfide del Paese oggi. L'Italia ha un grande bisogno di affermare i propri territori e la ricchezza che ha nei propri territori. Naturalmente il vostro, quello di Tervisio, ha degli asset straordinari e è un peccato non poterli sviluppare quanto meritano. La nostra esperienza che va da aver assistito per creare la loro visione grandi città come Milano, Roma, Torino, a avere fatto il piano strategico di città in Cina, ma avere lavorato anche con Reggio Emilia, con Ascoli Piceno e con molti altri territori italiani, è sicuramente ampia ma basata su alcuni punti chiari. Il primo punto chiaro è che i territori che hanno successo, avendone esaminato alcune centinaia in giro per il mondo in varie ricerche fatte e in vari incarichi consulenziali, i territori che hanno successo hanno alcune caratteristiche comuni. Primo, hanno una visione chiarissima del loro futuro, avendo deciso di che cosa vogliono essere e su che cosa vogliono essere bravi, cioè il concetto di competenza del territorio, competenza distintiva del territorio è un concetto chiave nel nostro approccio allo sviluppo del territorio e alla strategia del territorio. Una competenza del territorio è qualche cosa che il territorio possiede in quanto tale e non è solamente la bellezza naturale o la ricchezza di monumenti che sono ovviamente importanti, non è neanche solamente la loro propria cultura o la propria enogastronomia, ma proprio la capacità di fare le cose meglio di altri territori con cui sono in competizione in altre parti del mondo. Ed è una competenza che deve essere di proprietà del territorio e delle popolazioni del territorio. Faccio un esempio, se domani mattina voi prendete un primo Nobel per la fisica e lo mettete a lavorare a Tarvisio, quella competenza in fisica non è del territorio, è del signore del primo Nobel che avete chiamato. Se questo signore resta per 20 anni a Tarvisio, costruisce una scuola di ricerca, si crea 200 allievi e tutta la gente di Tarvisio sa che un loro punto di eccellenza è la fisica, dopo 20 anni quella è una competenza del territorio. Quindi una delle prime domande che probabilmente vi dovete fare è quali sono le competenze, e non possono essere che poche, che avete o che volete costruire. E quindi questo è il secondo punto, dopo la visione, quali competenze il territorio deve avere. I territori di successo ne hanno poche e chiarissime su cui investono ripetutamente. Alcuni sono fortunati perché ce le hanno dalla storia, altri magari non le hanno, oppure le competenze che tradizionalmente avevano le hanno perse perché il mondo è cambiato. Un caso che abbiamo studiato e che è stato molto interessante, ad esempio il caso di Poitiers in Francia, nel mezzo della Francia, territorio che non aveva competenze specifiche, 20 anni fa si è chiesto come fare per crescere e ha deciso di puntare su tutto quello che era collegato al futuro. Ha fatto un parco a tema Futureland per il futuro, un parco a tema virtuale, quindi diverso dai vari Disneyland, ha fatto un centro di ricerca, ha fatto un parco tecnologico, oggi Poitiers è una meta ambita a 4 milioni di visitatori all'anno e 800 milioni di investimento all'anno di aziende che vanno a investire sul territorio e un parco tecnologico di primissimo livello. Questo è un esempio totalmente diverso ovviamente da voi, ma è per chiarire che uno può crescere anche dal nulla, anzi addirittura se uno pensa al nulla può pensare a Erice. Io da giovane ho fatto il fisico e mi ricordo che da giovane fisico nel 1971 andrei a fare la scuola di fisica di Erice. Erice è un paesino sopra Trapani, credo che a quell'epoca gli abitanti fossero 900, bellissimo ma totalmente abbandonato, anzi ormai solamente persone anziane vivevano a Erice. È il professor Zichichi che sicuramente avete sentito e visto in televisione e a quell'epoca decise di fare una scuola per i giovani fisici promettenti, chiamando ogni anno però 4 o 5 premi nobili a insegnare in un corso di un mese e i giovani fisici venivano da tutto il mondo. Cominciò allora, ebbe successo, voi tutti sapete che oggi, penso sappiate, oggi il centro Ettore Majorana di Erice è un centro famoso in tutto il mondo e non fa solo il corso di fisica in agosto, continua a fare con i 5 o 6 premi nobili della fisica, ma per tutto l'anno fa conferenze di altissimo livello sui temi più disparati, avendo ridato vitalità completamente al territorio. Ripeto, sono esempi diversi da voi, ma è la dimostrazione di come si possa avere una visione e costruire una competenza. Una competenza che poi deve permettere nel tempo di fare in modo che il territorio sia riconoscibile, che la gente sappia che quel territorio è bravo a fare quella cosa e che molte persone vogliono andare lì. E questo è l'altro punto, il terzo e ultimo punto che volevo citare, la riconoscibilità nell'immaginario collettivo delle persone che vi interessano nel mondo del vostro territorio. Riconoscibilità che si può ottenere sicuramente, prima di tutto con la sostanza, il fatto che fate le cose meglio, che ci sono delle cose importanti, le funzioni vengono svolte bene, ma anche con una visibilità di qualche cosa. È inutile dire che il Museo Guggenheim di Bilbao è stata la bandiera che ha permesso a Bilbao di rinascere. Dietro c'era molto di più, non c'era solo il Museo e non c'era solamente la parte artistico visibile del Museo, però ha servito moltissimo. Ma anche andando a casa nostra, a Reggio Emilia, con i ponti di Calatrava sull'autostrada, ancora una volta non ci sono solo quelli, c'è molto di più dentro Reggio Emilia oggi, nel piano di rilancio di Reggio Emilia, a cui noi abbiamo partecipato, però è sicuramente estremamente visibile. Se non ricordo quante milioni di persone passano sull'autostrada, quelle milioni di persone tutti gli anni vedono, ogni volta che passano, vedono in maniera inequivocabile il ponte di Calatrava sull'autostrada e quindi sanno che Reggio Emilia esiste. Credo che queste siano un po' le cose che dovreste fare, sono questi i temi che tra l'altro noi vi possiamo aiutare a ragionare. Un ultimo passaggio sulle vostre competenze. Non vi conosco a sufficienza, sono stato a Tarvisio, ho dei meravigliosi memorie del vostro ambiente naturale. Probabilmente avete un dono che è di essere vicino a territori simili al confine con la Slovenia e con l'Austria. Io credo molto che nella globalizzazione i localismi contano, ma conta anche fare alleanze e mettersi insieme. Probabilmente voi siete un punto unico in Europa, l'unico punto che ha tre confini uno vicino all'altro. Se su questo si potesse costruire qualcosa, sicuramente sareste fortemente riconoscibili e potreste attrarre per motivi diversi, sia turisti che investitori, persone che vogliono venire ad abitare lì, persone che un domani ci vogliono costruire la casa. Queste sono le nostre esperienze, su questi temi ovviamente sarei lietissima poi di poter venire a parlarne di persona come quando vorrete e mi scuso ancora una volta di non essere di persona. Grazie e arrivederci.